In questi giorni dal 15 al 19 luglio Sansepolcro sta ospitando la Summer School del progetto di capacity building per gli operatori, gli artisti e gli spettatori delle performing arts. Si tratta di un progetto che ci è stato finanziato attraverso i fondi del PNRR e quindi dall'Unione Europea all'interno dei finanziamenti destinati alla transizione digitale. Quindi abbiamo più di una ventina di persone che in questi cinque giorni stanno appunto implementando e accrescendo le loro competenze nell'ambito della creatività digitale. La Summer School è una delle tappe di questo percorso formativo che è iniziato a gennaio del 2024, ha visto le persone partecipanti coinvolti in cinque webinar e si completerà con la pubblicazione di un manuale Viaggiare sicuri nella scena digitale che raccoglie i contributi di tutti i docenti, curatori e curatrici che hanno preso parte a questo processo formativo.